Arriva la primavera e inevitabilmente la stagione degli amori. Ecco perché Gibbini ha ideato il mese della cerimonia. Novità e tradizione si sposano nel nostro vasto assortimento, ricco di nuove collezioni e idee originali, sia nei reparti scarpe che in quello delle borse e accessori. Possiamo soddisfare le richieste più esigenti della sposa o dello sposo, così come quelle degli invitati, per essere al top ma tenendo sempre un occhio alla convenienza. Cerimonia non è soltanto matrimonio, ma anche comunioni, cresime e ricorrenze speciali. Gibbini calzature, arriva il mese della cerimonia! Future spose, guardate quanti modelli abbiamo per il vostro giorno da sogno, in tutti i colori, per le spose più classiche e per le spose più trasgressive. E poi non solo per le spose, anche per le invitate, le dammigelle, abbiamo tantissimi colori, dal verde che va di moda quest'anno, il corallo, tantissime tonalità di beige, e poi tacchi alti, tacchi bassi, insomma venite a trovarci che trovate sicuramente il modello che fa per voi. E poi non solo sposa, quest'anno va tantissimo lo stivaletto bikers, e qui ne trovate tantissimi. E poi le sneakers, così come la scarpa comoda per le signore che hanno bisogno di mettere il plantare, o una pianta più larga. E poi non ci dimentichiamo dei numeri grandi, fino al 45, ma non solo, perché ogni modello parte dal 35, perché noi vogliamo accontentare tutte le donne. Cerimonia è anche per uomo, un vastissimo assortimento per accontentare tutti i vostri gusti, e le vostre esigenze, lucide, non lucide, e poi anche le scarpe sportive comode, come Geox, i Ginko e tante altre. Non dimenticate che abbiamo i numeri grandi, fino al 53, e poi anche chi ama camminare e correre, abbiamo le Nike, le Adidas e le Skechers. Se cercate le California della Lely Kelly, non potete fare altro che venire qui da noi, perché le abbiamo tutte, come anche un vastissimo assortimento di scarpe, sia per il momento del gioco, che come diciamo qui in Toscana, per ricambiarsi. E poi nel reparto sportivo abbiamo veramente di tutto, anche le ASICS antifronazione. Da Gibini Calzature è arrivato il mese della cerimonia, ma non solo nelle scarpe, anche nelle borse e nella piccola pelletteria, con un vastissimo assortimento di colori e modelli. Cerimonia però vuol dire anche viaggio di nozze, e quindi venite a trovarci, perché qui trovate veramente un assortimento grande di valigie. Prima di salutarci vi voglio ricordare del nostro vasto assortimento di scarpe da ballo, sia da uomo che da donna. Veramente tanti modelli a prezzi davvero convenienti. Siamo a Piavanievole, 500 metri dall'uscita dell'autostrada Monte Catini Terme, direzione Monzummano. Aperto la domenica, chiuso il lunedì. Gibini Calzature, è arrivato il mese della cerimonia.